C'è la festa del libro, corri in libreria. Fino al 7 marzo Mondadori festeggia e ti regala il 25% di sconto su tutti i libri Mondadori. In arrivo più macchie del solito. Si consiglia Biospray Azione e Colore, l'addittivo con anticalcificante. Per informazioni chiamare il centro europeo antimacchia Biospray. Sete e migliaia di premi. Morale della favola? Comprate un orologio Lorenz. Posso passare ore a creare una natura morta, cercare la luce più adatta per questi prodotti di bellezza. A proposito, ecco un vero prodotto di bellezza, Plytex. In realtà siamo tutti e due a servizio della bellezza. Valorizzare l'armonia di una curva, sottolineare un dettaglio, svelare una forma. Beh, lo ammetto, preferisco le nature vive. Plytex, la forma della bellezza. La natura non manca mai a un appuntamento. Fate lo stesso anche voi. Con la marmellata lassativa tutta naturale, tamarine. Una buona regola. È un medicinale usare con cautela. Antiquario e restauratori? Semplice appassionati. Restauro e antiquariato. La guida più completa per imparare l'arte del restauro e riconoscere epoche e stile. Restauro e antiquariato. In edicola a sole 2000 lire con la guida al mercato antiquario. Danza morbida la vita. In due dita di Ballantines. Due dita di seta. Morbido, senza incertezze. Ballantines. Seta scozzese. Panorama. Tutto quello che devi sapere. Questa settimana. Tangentopoli. Una rivoluzione italiana. Trenta pagine ed esclusive. Magnifiche ossessioni. Le nuove donne fatali del cinema. Mafia. Che cosa c'era nelle tasche del padrino. Manorama. Tutto quello che devi sapere.